Buongiorno Sindaco, la incontriamo nell'antivigilia di Natale in pieno consiglio comunale che quest'oggi si è aperto con la commemorazione di un uomo che purtroppo ieri ha perso la vita nella nostra città a causa del maltempo. Sì, è commemorazione sentita e dovuta. Non ci si può abituare al fatto che il cambiamento climatico diventi una normalità, non ci si può abituare al fatto che lo Stato non investe nella messa in sicurezza del nostro Paese e noi sindaci non ci vogliamo abituare all'idea di stare col cerino in mano, perché il nostro cerino in mano significa la sicurezza di tutti i nostri concittadini. Noi siamo molto preoccupati, perché anche nella giornata di ieri, domenica, tante donne e tanti uomini del Comune, ma anche delle altre istituzioni, praticamente a mani nude, con poche risorse e pochi mezzi, hanno dovuto lavorare. Non è giusto. Non è giusto per chi ci mette la faccia, non è giusto per chi rischia la vita, non è giusto che in un Paese in cui si possono decidere le priorità, chi governa non colga questa come una priorità. Quindi non è la prima volta che muore una persona, non è un fatto napoletano, lo voglio dire ai soliti sciacalli avvoltoi della giornata. Purtroppo è un tema nazionale, dico purtroppo perché se fosse solo napoletano, lo voglio dire, sarebbe un danno meno grave, invece è nazionale, dall'Irpinia a Roma, alla Liguria, alla Calabria, tutta Italia, tutta Italia. Non c'è territorio esente da tutto questo, dico l'Italia per non uscire dai confini, ma potremmo andare in Francia, potremmo andare in Spagna, potremmo andare in Australia, dove ci sono rughi con 47 gradi. Quindi chi non si vuole rendere conto e continua a ironizzare sulle allerte meteo, scaricare la responsabilità su Tizio Succaio, è persona di poco cervello e molto ignorante. Ignorante lo dico in senso tecnico, si fa mancata conoscenza dei fatti. Noi ci troviamo di fronte a una situazione molto seria, il Paese per troppi anni non ha ritenuto che la sicurezza fosse una priorità e oggi ne paghiamo le conseguenze. È un fatto umano, quindi a questo possiamo porre rivedio, ma o se ne accorge il Paese, oppure noi continueremo andare dietro, è meglio che lo diciamo con onestà, chi ci ascolta, all'emergenza del giorno. Quindi potremmo sistemare qualcosa, potremmo aggiustare qualcosa, daremo sicuramente il massimo, questo voglio rassicurare tutto, ma andremo dentro all'emergenza del giorno. E già sono decine e decine e decine i morti in Italia per i cambiamenti climatici, decine e decine i morti. Quindi io credo che questo sarà uno degli argomenti in cui maggiormente assillerò, anche attraverso le vostre telecamere, il governo e il Parlamento. Deve diventare un mantra, perché la messa in sicurezza dell'Italia significa anche sicurezza, economia e lavoro, perché si potrebbero aprire migliaia e migliaia di cantieri in tutta Italia, non per fare speculazioni, ma per mettere in sicurezza. Quindi questa è una priorità e noi sindaci martelleremo, perché non consentiremo a nessun governo di qualsiasi colore politico di giocare sulla pelle dei nostri connazionali. E a questo punto non ci resta che fare un bilancio di come è andato questo 2019, chiudendo anche con un invito a partecipare a vivere la notte del Capodanno in piazza, in città, in strada, con gli eventi che per l'appunto caratterizzeranno questo Capodanno a Napoli. Sì, nonostante queste giornate difficili, il Natale a Napoli sta andando forte, tante iniziative culturali, tante bei concerti, da ultimo ieri abbiamo avuto Canino e Ugi a San Domenico Maggiore, il concerto di Teresa Desio, i ragazzi di Forcella e la Sanità che suonavano insieme nella Basilica dell'Annunziata a Forcella, ma ne ho citato qualcuna giusto a titolo esemplificativo. Quindi ci avviamo verso un Capodanno anche quest'anno speciale, una piazza del plebiscito ricca di talenti, giovani e meno giovani, voglio citare in particolare Daniele Silvestri e Stefano Bollani, ma sono tantissimi gli artisti presenti, la più grande discoteca all'aperto d'Italia sul lungomare, i fuchi d'artificio, insomma tutto si preannuncia davvero eccellente, quindi speriamo che il tempo ci assista, ma pare che le previsioni nei prossimi giorni tra Natale e Capodanno siano buone, con sole, un tempo nemmeno troppo rigido e quindi davvero da questo punto di vista lavoriamo tutti perché Napoli si possa presentare al meglio. L'augurio che vuole rivolgere a tutti i nostri concittadini? Un Natale soprattutto di amore, di solidarietà, di fratellanza, di amicizia, di armonia in casa, poter stare un po' con i cari che si trascurano ogni giorno per il lavoro, per tante faccende, quindi è un momento anche di intimità familiare, con gli amici anche, un momento pure di riflessione se vogliamo, di riflettere su tante cose, è davvero l'augurio che possa essere un Natale come si ama farlo a Napoli, cioè pieno di calore, con quell'atmosfera del presepe che racchiude una comunità che si stringe unita nell'attesa di Gesù Bambino, e che la nascita di Gesù Bambino non sia un fatto consumistico come molti interpretano in Natale, ma che sia un fatto in cui riscoprire la voglia di essere umani e di vivere in armonia insieme alle altre persone della comunità in cui si vive.